Cresce ancora la triste conta delle morti sul lavoro nel Salernitano, 7 dall'inizio del 2021, 6 quelle nei cantieri. Questa mattina intorno alle 10 a Monte Corvino Pugliano, all'interno di un capannone della società Sabit SRL, ha perso la vita Rocco Scalesi, 64enne di Salerno. L'operaio stava riparando il tetto della struttura, il capannone. Era stato danneggiato qualche mese fa da un incendio doloso che distrusse quello adiacente. Ancora in corso le indagini, il 64enne è precipitato da un'altezza di oltre 15 metri, soccorso dai colleghi, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale a Battipaglia. Il capannone è stato sequestrato al via le indagini dei carabinieri. Si dovrà ora accertare se si sia trattato di una drammatica fatalità o vi siano responsabilità. Vicinanza alla famiglia del 64enne da Massimo Sannino, responsabile della filca Cisle Campania, che accusa a un'età così avanzata non si può lavorare in cantiere. Chiede invece maggiori controlli e sanzioni la CGL Campania, un decesso che arriva proprio mentre a Salerno si stava firmando in prefettura l'accordo organizzativo per la sicurezza nei cantieri e il contrasto del lavoro nero tra forze di polizia, organizzazioni sindacali e ance. Risuona a sinistro ora il monito del questore. Noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questa vergogna nazionale delle morti sul lavoro non si debba più verificare. Bisogna che tutti prestiamo la massima attenzione su, lo dice la Costituzione, che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro e bisogna fare in modo che il lavoro dia gioia, felicità, benessere alla gente e non morte.